Buonasera amici, benvenuti in un altro giorno di dieta. Come sempre sveglia alle 6 del mattino e lampioni accesi ancora in strada. E sì, piove pure stamattina, ormai non risparmio giornate proprio. Comunque, questa mattina mi sono preparata i mini pancakes alla banana con 11 grammi di gocce di cioccolato, facilissimi, velocissimi e buonissimi. Ovviamente il mio latte e caffè, perché con la schiumettina non può mai mai mancare. Così questa è stata la mia colazione di questa mattina. Sopra ai mini pancakes, per finire, ho messo un po' di topping, miele, semplicemente un pochino di miele e basta. Ed è per questo che nell'impasto ho messo mezza puntina di, c'è un cucchiaino raso, nemmeno di zucchero di canna, tra le altre cose. Sono buonissimi, li dovete provare, sono facili e veloci, potete farli anche senza gocce di cioccolato. Per pranzo c'era mio figlio a casa, perché aveva una visita e quindi è stato a casa. Mi ha chiesto hamburger patatine e così l'ho fatto anche per me. Abbiamo fatto tutto un unico pranzo. Tutto quanto ho fatto in friggitrice ad aria. E sopra le patatine sono messo un pochino di sale. Volevo metterci il limone, mi sono dimenticata. Vabbè, fa niente. Questo è stato il mio pranzo veloce, su e su e. Cioè, questo ho fatto così. Ho fatto un unico pranzo per tutti e due. La scena invece mi sono preparata la pasta integrale con un sugo di melanzana, cipolla e basilico e lì venere. Ho fatto un po' più di pasta perché c'avevo fame. Non avendo fatto nessuno spuntino, non avendo fatto nessuna merenda, avendo camminato tantissimo. Ero stanca e c'avevo fame. Cioè, proprio stasera c'avevo proprio la voglia di mangiare. Ecco, non so come spiegarlo. Magari a differenza delle altre volte che non avevo tanta fame, stasera c'avevo proprio fame. Ed era buonissima. Poi col sugo mutti, che te lo dica fa. Buona, buona, buona. Questa è stata la mia giornata. Ciao.